La prima nota è, Shikan entra a sinistra, e destra 3, 100, destra 2, in sinistra 1 gira, e destra 3, in sinistra 3, 80, sinistra 2, 90, destra 3, doppia, 90, tornante destro, 70, tornante sinistro, 80, destra 1, 40, destra 4, e destra 3, in sinistra 3, 80, destra 3, doppia, 90, tornante sinistro, 80, destra 2, in sinistra 1 gira, in destra 2 gira, apre, e destra 3, in sinistra, e destra 6, in sinistra 3, ���i, e la prima nota è, per la prima nota è, io stata una nota, questo sièsò è opinione,